ciao ragazze ciao ragazzi oggi un nuovo cosa mangio in un giorno vi faccio vedere la colazione la colazione è stata una colazione molto semplice perché mi sono preparata il caffè e il latte in questo caso vedete quello di Rebecca perché ho usato il latte vaccino mentre per quanto riguarda me utilizzo il latte di avena e poi l'ho messo bene nel microonde così almeno è più veloce tutto quanto e poi abbiamo aggiunto questa crostata alle more che abbiamo preso da selunga davvero davvero buona anche se Rebecca preferisce quello della nonna poi questo è il pranzo e ho utilizzato questo nuovo prodotto della barilla che si chiama legumotti ed è davvero molto buono mi è piaciuto davvero tanto ho preso delle verdure che queste qua erano sul gelate e le ho messe in padella ho acceso l'acqua per cuocere legumotti ed ecco qua pronto il piatto quindi ho aggiunto queste verdure accanto che c'erano comunque melanzane, zucchine, le patate e insieme questi legumotti devo dire che come mix ogni tanto mi piace non è comunque un piatto troppo pesante mi è piaciuto molto poi il pomeriggio sono andata al bar e ho preso un caffè sono andata al mio bar preferito che è il bar di mia zia e mi ha fatto questo caffè bravissima con il cacao perché sono golosa e quindi gli ho detto mettiamo una spruzzatina di cacao sopra questo caffè ma facciamo un piccolo dolcetto, un minimo proprio poi una volta tornata a casa ho preparato i pancake questi già ve li ho fatti vedere in un vecchio cosa mangiano un giorno senza che vi ripeto la ricetta perché è sempre la stessa solo che in questo caso invece che fare i pancake con le fragole ho utilizzato le gocce di cioccolato tanto per cambiare un po' quindi ho aggiunto la solida farina e qua sto controllando bene al grammo se la metto giusto ho usato qua il latte di riso perché avevo quello anche se non è il mio preferito tra i lati vegetali perché lo trovo un po' troppo dolce per i miei gusti infatti il mio preferito resta sempre e comunque il latte di avena e non so magari se ne avete uno in particolare che avete utilizzato e vi è piaciuto particolarmente consigliatemi qua nei commenti poi vabbè naturalmente ho aggiunto lo zucchero e se non sbaglio ho messo 40 grammi perché mi sembra che la ricetta originale ci fossero 40 grammi a volte metto anche 50 perché le becca se no non li mangia no in realtà vanno bene lo stesso non è che si sente tanta differenza però li vuole un pochino più dolci abbiamo aggiunto anche un cucchiaio d'olio e poi queste gocce di cioccolato che erano... le avevo da un po' e quindi volevo terminarle e così ho utilizzato questo metodo qui per finirle poi ho scaldato la padella ho messo l'olio l'ho tolto un pochettino con la carta assorbente in modo da non utilizzare troppo olio quindi di asciugarla un pochettino in modo che ci fosse di meno insomma e poi niente, piano piano ho aggiunto ho aggiunto pancake la miscela che insomma avevo creato e ho cercato di essere abbastanza attenta solo che la padellina in realtà era troppo piccolina ne ho comprata una nuova su Amazon proprio per fare i pancake perché sto andando un po' in fissa con i pancake li mangio molto spesso e ho preso una padella più grande così mi sono un po' più facilitata nel farli quindi è un po' più complicata perché c'è il rischio che comunque si attacchino uno con l'altro però devo dire che comunque sono stata abbastanza brava diciamo infatti eccoli qua ne ho fatte solamente due proprio per evitare questo problema perché sennò la padella è veramente troppo piccola appena vedete che comunque fanno le bolle dovete toglierli quindi è una cosa abbastanza rapida perché ci mette veramente pochissimo a cuocere ed eccoli qua infatti praticamente pronti e questo è il piatto finale ho aggiunto anche lo sciroppo d'acero non so se ci sa bere lo sciroppo d'acero con questo tipo di pancake però vabbè ce l'avevo l'ho aggiunto tanto per far qualcosa metterci qualcosa e ora passiamo invece alla cena la cena hanno fatto una cena un po' così un po' più particolare abbiamo preparato questi fagioli con una passata di pomodoro il basilico e con varie spezie e poi dopo ho comunque preparato l'avocado perché volevo fare dei toast infatti ho tostato il pane e poi dopo piano piano ho messo sopra il toast l'avocado ben schiacciato che a me questa combinazione prima di tutto l'avocado mi piace tantissimo e poi questa combinazione il toast con l'avocado ah ho visto anche delle ricette con le gallette con l'avocado a me comunque piacciono so che magari non piace a tutti quanti però devo dire che è venuto molto buono poi ho aggiunto l'olio un goccettino proprio poco poco e poi naturalmente il sale e i semi di chia ancora non ho capito come si dice ed eccolo qua pronto per essere mangiato veramente ottimo provatelo fatemi sapere se vi piace se già l'avete provato insomma e se avete magari anche delle combinazioni nuove perché soltanto la ricerca di certe nuove più carine ho aggiunto anche il limone che da un gusto un po' più particolare ed eccole qui i due toast che ho preparato veramente veramente molto buoni poi abbiamo preparato anche dei finocchi sì questa era la cotoletta rimasta di Rebecca ci abbiamo messo vicino pure quella abbiamo registrato pure quella e i fagioli io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video e al prossimo cosa mangiano un giorno ciao ragazzi e ragazzi